I comuni nella maggior parte sono insolventi e quanto dichiarato dal commissario Enrico Vella che esprimendo la sua solidarietà ai lavoratori si è recato negli uffici dell'exato CL1 per dichiamare i comuni aderenti alla SRR Caltanissetta Nord che ancora debbono versare le loro somme e poter procedere così al pagamento dei lavoratori, i quali nonostante la situazione venutasi a creare proseguono ad espletare il loro servizio regolarmente. Somme in parte in arrivo grazie ai bonifici effettuati nei giorni precedenti al ferroagosto da parte di alcuni comuni. Premetto che voglio ringraziare gli operatori che giornalmente vanno a lavorare presso i loro comuni per tenere la questione igienico-sanitaria sotto osservazione, è veramente un ringraziamento di cuore. La situazione è che i dipendenti attualmente sono indietro di quattro mesi. Già noi abbiamo pagato tutti gli operatori che i comuni hanno versato le somme prima del 10 di agosto e già sono stati tutti pagati, anche i lavoratori sopra ambito, tutti quelli che i comuni hanno emesso un mandato di pagamento noi abbiamo provveduto. So che in questi giorni, perché dalle telefonate che mi arrivano dai sindaci verso giorno 11, giorno 12 sono partiti altri bonifici di pagamento per gli operatori dei loro comuni e noi stamattina siamo qui ad aspettare che arrivino questi soldi e ribaltarli in maniera simultanea ai lavoratori perché si capisce bene che il lavoratore va pagato perché svolge un servizio. Credo che rispetto al passato qualche cosa di migliorativo c'è stato nella regolarità però abbiamo sempre un problema. Siamo quattro mesi indietro, alcuni sono due mesi indietro, alcuni quattro mesi. Io spero che stamattina con i soldi che provengono dai loro comuni li possa mettere tutti in regola perché i sindaci stessi adesso stanno cominciando a fare dei mandati di pagamento solo per i loro lavoratori perciò non si può fare come prima che con i soldi di Santa Caterina si pagavano per esempio tutto e cose. Devo dire che anche Caltanissetta rispetto al passato qualche somma la sta versando per la struttura e speriamo che si possa arrivare alla regolarità dei pagamenti perché almeno il menzile ai lavoratori va dato, lo stipendio va dato perché è una questione anche di correttezza nei confronti. La mia correttezza è quella di essere qua stamattina e vedere se sono arrivati i bonifici. So che sono arrivati qualche somma e stiamo procedendo al pagamento di questi operatori.